ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare questa vettura bellissima fantastica che una golf gt 230 cavalli performance cambio manuale dell'anno 2016 con solo 58 mila chilometri vettura accessoriatissima nel colore grigio carbon steel metallizzato ruote da 19 santiago fari allo xeno sensori parcheggio avanti e dietro fan di nebbia tetto apribile guardate che bella grigio carbon steel ruote da 19 pacchetto performance guardate che roba vettura ex dipendenti woswagen che arriva dalla germania ci è arrivata solo ieri guardate la vettura spettacolare adesso vi faccio vedere gli interni e sono come nuovi guardate interne che sono misto stoffa alcantara e pelle su queste vetture un discorso così è quasi trovabile guardate vedete com'è bella questa vettura dietro siamo che non siamo mai seduto nessuno guardate qua i sedili sono tutti in pelle vedete se solo poi gli inserti in stoffa davanti dispositivo carico passante subwoofer perché la vettura al dinaudio devo mettere la parte davanti guardate super veramente super allora praticamente qui abbiamo il tetto apribile lo vedete vettura con 58 mila chilometri mettiamo in moto allora volante multifunzione fare automatici specchietti richiudibili elettricamente vedete poi abbiamo sensori parcheggio avanti e dietro che sono qua navigatore satellitare navigatore quello più grande navigatore pro cambio manuale timo automatico sedili riscaldati e poi il dinaudio come vedete che c'è anche la scrittina lì dinaudio la chicca di questa vettura è il driving mode selection che ha però anche il dcc il dcc che cos'è praticamente ha la regolazione delle sospensioni che potete andare a cambiare in comfort normal e sport quindi potete avere un asset più rigido sportivo normale o confortevole se andiamo sull'individual possiamo andare ad adattare i parametri di guida quindi posso andare a mettere le sospensioni in comfort in normal e sport ok lo sterzo il motore il blocco del differenziale questa macchina qua un 230 quindi al differenziale autobloccante fare direzionale adattivi perché anche di fare direzionale adattivo una macchina veramente super super accessoriale questa golf gt 230 performance qui nel cassettino oltre ad avere l'alloggiamento per un inserio di cd c'è il suo libretto service con tutti gli tagliati timbrati fatti in germania la vettura noi la consegniamo con 36 mesi di garanzie che valgono in tutta europa in tutta italia il tagliando fatto olio e tutti i filtri doppie chiavi libretto di istruzioni in italiano sanificazione degli interni lucidatura degli esterni questa vettura veramente una chicca perché una macchina così è molto difficile da trovare così accessoriata e così ben tenuta con solo 58 mila chilometri già solo il discorso delle sospensioni elettroniche già tutto un suo perché e poi in più c'è addirittura il dispositivo per park assist che parcheggia da sola quindi veramente è carica di accessori la vettura la trovate a motta di costigliole d'asti il mio numero di telefono 0141 96 92 14 infocchiocciola bianco auto punti per una mail ovviamente la trovate da bianco auto la vettura è perfetta venite a vedere provarla perché veramente una macchina che ne vale la pena grazie a tutti e alla prossima